Che cos'è? È un'attenta e precisa analisi della condizione posturale della persona. A cosa serve? A renderla cosciente dei propri vizi e otteggiamenti posturali e di come questi possono condizionare la vita di tutti i giorni. Chi la consiglia? Può essere prescritta dagli specialisti fisiatri o ortopedici o dai fisioterapisti di fisio gym oppure consigliata dai nostri trainer ginnasio. Come si svolge? Dopo un'attenta analisi sullo stile di vita e sul vissuto motorio della persona il test si svolgerà sul circuito stabilometrico postulare della Tecnobody.